Non so se possiamo esattamente dire così, però mi sembra che si sia un po' sbloccato Tiago Motta. Nelle conferenze stampa intendo. All'inizio era molto più sulle sue, no? Era molto più legato a rispondere anche a monosillabi. Adesso si sta sciogliendo, si sta aprendo, sta iniziando a implementare alcune risposte, magari anche ripetendo gli stessi concetti, perché anche oggi ci sono state tante ripetizioni, ma questo è il suo modo di essere. Lui pensa che la squadra debba dare il massimo, che la partita più importante sia quella successiva, eccetera, 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 migliorare, eccetera. Però mi sembra un po' più coinvolto all'interno della linea comunicativa da allenatore della Juventus. Anche questa è stata una grande conferenza stampa. Con la prima lipsia mi era piaciuta tantissimo, perché abbiamo snocciolato tanti concetti e ho visto che vi è piaciuta anche quella stessa conferenza stampa. Andiamo a analizzare anche questa perché anche oggi abbiamo, secondo me, degli ottimi spunti di riflessione. La prima domanda di Juventus TV. Come sta la squadra opolipsia? Bene, molto. Quando si vince aiuta il lavoro. Stanno bene fisicamente e mentalmente e concentrati per domani. Indisponibili Arek, Gleison, Nico, Weah e Aztic. Weah ha provato a fare allenamento, ma ha ancora dolore. Quindi, Weah, fuori dai convocati. Qual è il peso dell'assenza di Bremer? Ci sarà la possibilità di andare sul mercato di Genaro per sostituirlo o se andrà su uno svincolato? E Danilo potrebbe essere un nome? Gleison è importante per noi. Mi dispiace per il ragazzo. Umanamente è fantastico. Tecnicamente non ho bisogno di dirlo. Tutti noi daremo qualcosa in più. Perché se fosse stato un altro compagno a fermarsi, sarebbe stato lui uno dei primi che si sarebbe preso la responsabilità di dare qualcosa in più. Lo faremo noi per lui. Deve essere tranquillo e calmo. Deve accettarlo. Già ieri l'ho visto meglio. Deve pensare a operarsi e recuperare. Noi lo aspettiamo. Danilo, come tutti, darà qualcosa in più. Insomma, questa è la linea comunicativa. Devo dire che mi piace anche molto il sottolineare, l'evidenziare, il ripetere anche. Di dare qualcosa in più. Perché è logico che stiamo parlando di un infortunio pesantissimo a uno dei pilastri di questa squadra. Non potrebbe essere altrimenti. Non dobbiamo prenderci in giro e dire, vabbè, non succede niente. Non è vero che non succede niente. È sicuramente una perdita di livello. E lo stesso Bremer, a quanto pare, non voleva accettarlo subito. È il tempo, ragazzi. C'è soltanto da aspettare e da farselo scivolare addosso. Cercando di lavorare per tornare al meglio. E Bremer sicuramente lo farà. E mi piace questa lettura di Tiago Motta. È stata un'ottima lettura. Ci sono differenze tra le competizioni. C'è una Juve di Coppa, sia per percentuale realizzativa che per difesa, e una di campionato. E Tiago Motta, che ne ha già fatto questa domanda fino allo sfinimento, ripete nuovamente un concetto che ha già espresso anche lui fino allo sfinimento. E cioè che ogni partita è diversa. L'ultima è stata una partita giocata molto bene e ora siamo concentrati sulla prossima. Il Cagliari viene da una vittoria dove ha giocato bene. Si difendono bene, i ripartenza sono forti, davanti ai piccoli sta bene, l'ovumbo va velocissimo, Viola ha fatto una grande prestazione. Noi siamo concentrati su questo, vogliamo una buona prestazione. Domani a casa nostra con il nostro pubblico. Sarà un'atmosfera di calcio. Vogliamo fare bene il nostro lavoro dal primo all'ultimo minuto. Davanti ha utilizzato sempre quei cinque. È possibile avere delle rotazioni, ora che Nico si è fatto male, immagino di sì. Quindi Tiago Monte risponde, vedremo domani, possano giocare tutti, stanno bene. Chi entrerà domani dovrà dare qualcosa in più per il bene della squadra e raggiungere il risultato positivo. Questa è bella. Il cambio che ha fatto in occasione della sostituzione di Perini è stato offensivo. Quindi fuori Savona, dentro Douglas Lewis. È stato lei a dare un input alla squadra di stare alti o è la squadra che ha dato un input a lei? Tiago Monte ha dato una risposta meravigliosa. Ha detto no. È la squadra che mi ha dato l'input, onestamente. Io ho visto una squadra che voleva andare avanti e provare a vincere. Io ho avuto questa sensazione. Ho seguito l'istinto vedendo i miei ragazzi in campo e sono molto contento. Non solo per me è stato orgoglioso, ma per tutti noi vogliamo finire le partite ed essere orgogliosi di quanto fatto. Bello che non si prenda i meriti, anche se di meriti ce ne sono tantissimi in una lettura di questo tipo. Bello che dia il buono, vada a prendere il buono e vada ad attribuirlo ai suoi ragazzi, perché questo aiuta poi il gruppo squadra a cercare di provare a fare sempre più prestazioni di quel tipo. Ma la cosa ancora più bella è dire vogliamo finire le partite ed essere orgogliosi di quanto fatto. Avete presente quando avete giocato a calcio a qualsiasi livello? Può essere terza categoria, può essere serie C, può essere livello amatoriale, non importa la categoria. Però quando finite le partite c'è quella gioia lì, di aver fatto qualcosa in campo e di aver raggiunto un qualcosa. Quella sensazione lì è la sensazione che deve diventare una vera e propria droga per la Juventus. La Juventus deve essere dipendente da quella sensazione lì, in modo da fare tutto per arrivare a quella sensazione lì. Quindi orgoglio credo davvero che sia la parola chiave di questa Juve di Tiago Motta, di questi primi due mesi di Juve di Tiago Motta. Orgoglio, mi piace tantissimo. È convinto che Conte si riferisse a lei quando ha detto quella frase l'altro giorno, non l'avevo neanche letta. Conte avrebbe detto qualcuno all'infuori vuole mettere pressione al Napoli, ma ha voluto la bicicletta e ora deve pedalare. Tiago Motta taglia corto, non ha voglia di queste teatrine, dice sicuramente non si riferisce a me, devi chiedere a lui. E poi chiedono, l'Ipsi ha cambiato la dimensione della Juve nella testa degli avversari? Come cazzo fa Tiago Motta a sapere questa cosa? E dice, non lo so, noi internamente abbiamo fiducia e atteggiamento e voglia di far bene la prossima partita, che è sempre la più importante. Ogni partita è diversa, come tutte, noi entriamo in campo determinati, concentrati e convinti di poter fare un risultato positivo. Ogni avversario che andremo ad infrontare, poi dovremmo chiedere come pensare ad affrontare questa Juve. Anche perché la domanda su Conte, l'ha detto Conte, la domanda sui avversari, è roba degli avversari, chiedetelo direttamente loro cosa vi devo dire. Ieri c'è stata una buona notizia, quella di Pogba. E Tiago Motta dice, su Paul la società valuterà il da farsi. A me riguarda questo, Pogba è stato un grande calciatore, ma è da tanto tempo che non gioca. Io sono concentrato su domani e il resto conta poco. Ora, io ho letto ieri questa notizia su Pogba, non ho voluto fare un video perché, ho detto tanto sicuramente, poi lo tratteremo alla veloce. Ho fatto un post su Twitter, che ho poi ripostato anche su Instagram. Io voglio tanto bene a Pogba, è stato uno dei miei calciatori preferiti. L'ho letteralmente visto crescere perché il suo primo e il suo secondo anno alla Juve io avevo l'abbonamento, che il secondo e terzo di Conte. Non vi lascio neanche immaginare quanto io abbia amato Pogba, vedendolo dal vivo fare quelle robe lì. Ho comprato la sua maglia numero 10 quando gli è andato il 10, ho comprato la sua maglia quando è tornato, anche se per me la Juventus non avrebbe dovuto dargli il 10. Io sono sempre stato un bimbo di Pogba. Però è rare e umano, perseverare è diabolico. E Paul non da questo momento in cui ha avuto quel problema con il doping, eccetera, eccetera. Ma ben da prima aveva dimostrato di non essere più calamitato all'interno del calcio professionista e di non mettere più il campo da calcio, il pallone, la Juventus, avanti a tutto il resto. Non sono io che devo ricordarvi il primo anno, l'infortunio del ginocchio, il no non mi opero perché sennò non vado a fare i mondiali e poi è peggiorato e poi è saltato tutto l'anno. O il fatto di essere in giro per il club d'Arabia, andare a visitare le strutture delle squadre d'Arabia quando si è ancora sotto contratto con la Juve. O robe che possono aver dato meno fastidio a altri, ma a me ha dato fastidio un Pogba infortunato che deve pensare a recuperare e che va a vedere la finale del mondiale invece che lavorare per essere esposizione della Juve. Io voglio tanto bene a Paul, gli auguro il meglio, spero che possa trovare la sua dimensione, ma spero che lo possa trovare da un'altra parte. E lo torno a dire, è rare umano e il Pogba è stato un qualcosa di emotivo fortissimo per tanti di noi che hanno vissuto quel pole e hanno amato quel calciatore. Però abbiamo capito che non è solo il doping il problema di Pogba in questo momento, spero che l'abbiamo capito tutti. E non ha nemmeno senso oggi dire, sì ma quanto è forte Pogba per la Serie A. Perché Pogba in due anni, un anno e mezzo che è stato a disposizione della Juventus, non ha fatto il calciatore ragazzi. Quindi io vi auguro tutto il bene, ma anche Tiago Motta qua ha fatto capire che la Juventus non avrà intenzione di andare avanti con Pogba. E credo che sia la scelta più giusta, al di là dell'età, dello stipendio, quelli sono discorsi che vanno dopo. Io parlo semplicemente sull'utilità di avere Pogba oppure noi in questo momento, in questa Juve. Penso di essere stato abbastanza chiaro. Fagioli, può essere ancora meglio di così? Davanti qual è il vice Vlaovic? Attenzione, aprite le orecchie perché noi siamo abituati proprio nel gergo, nel quotidiano, nel parlato a dire il vice Vlaovic. Però Tiago Motta dice una cosa che è giustissima, attenzione. Non esiste nessun vice di nessuno qui dentro. E non voglio vice di nessuno. Voglio giocatori che vogliano giocare e pensano di poter essere titolari. Qui non c'è spazio per il vice, c'è spazio solo per chi vuole giocare. Perché in effetti noi siamo abituati al concetto, no? C'è uno che è un titolare e uno che giocherà un po' meno, quindi è il vice. Però per un allenatore non può essere il vice, giustamente. Perché ogni giocatore deve essere spronato, motivato, a dare e a rendere di più, per cercare di scippare quel posto da titolare. È giusto? Se no viene meno tutta la favola o l'intraprendenza del calciatore che deve provare a rubare, a scalare le gerarchie, ma anche proprio l'intensità del gruppo. Perché se uno molla e dice ok, non mi vede, sono il vice, ma chi me lo fa fare cala l'intensità della squadra, di tutti. Quindi occhio, perché è una considerazione molto importante. Su Fagioli sono contento, può migliorare sicuramente. In cosa? Come tutti i campioni, fare sempre, con continuità, dimostrare sempre alto livello. Lo può fare lui come tanti altri ragazzi, perché qui abbiamo solo giocatori forti. Lo ripeto, perché lo vedi in allenamento e in partita, ma la differenza è quella lì. Tantissimi allenamenti, partite, settimane di lavoro ad alto livello. Deve fare questo, lo può fare, sono convinto che lo farà, lo vedo molto bene. Sì, ed è, questo invece è un mio cavallo di battaglia, io ho sempre detto, quando è che un calciatore è veramente forte? Quando fa bene tutti gli anni, magari può sbagliare uno, certo, può succedere, ma quando fa bene tutti gli anni. Io che sono cresciuto con Treseguet, che è il mio riferimento, davvero per il centro avanti, anche se è veramente poco moderno oggi, un riferimento alla Treseguet, però Treseguet ha fatto 171 gol in dieci anni di Juventus, tolto quell'anno in cui è stato fermo e penso che abbia fatto una sola rete al Palermo da subentrato, perché aveva subito un infortunio. Ma vuol dire che è una media di 17 gol all'anno. Rappeto, ci sono degli anni in cui ne puoi fare un po' di più, degli anni in cui ne puoi fare un po' di meno, ma sapete quanto sono lunghi dieci anni a questi livelli? Guardate Buffon, guardate Ronaldo e Messi, questi sono i giocatori, Maldini, Zanetti, Del Piero, Totti, quando stai così alto per tutti questi anni, lì sei un campione, Modric, Kroos che si ritira comunque al suo apice, questi sono campioni ragazzi, questi qui, non quelli che fanno bene due o tre stagioni e poi vanno nell'abisso, quelli sono giocatori normali che avevano talento e potevano andare, questo è, questo è il mio punto di vista. E il primo punto di svolta della partita con Lipsia, è stata una bella partita, una bella serata, con l'atteggiamento giusto, è una vittoria meritata, punto. Ora l'importante è Cagliari, fare una grande prestazione in casa del 12.30 con il nostro pubblico. Tiago Motta ci ricorda che giochiamo a ora di pranzo, non mancate, saremo in live reaction su Twitch, per poi portare tutti i contenuti invece sul canale YouTube. Cabal è stato grande protagonista iniziale, poi non si è più visto, attenzione perché qua Tiago Motta dà una risposta glaciale che mi fa pensare che possa esserci la sua cosa con Cabal, attenzione, sta bene, è stato convocato in nazionale, è importante per lui, deve continuare a lavorare, allenarsi bene, quando avrà la possibilità di giocare e dimostrare anche quanto bene fa in allenamento. Per il momento altri meritano di giocare, quando arriverà al suo momento lo farà bene. Pochi complimenti, come invece sentiamo fare praticamente a tutti i calciatori, questa cosa mi ha un po' sorpreso, perché anche con Danilo ha tagliato corto, dicendo anche lui darà qualcosa in più. E Danilo e Cabal sono i due giocatori che per me nella mia testa sono loro che dovranno cercare di rubare quella casinina da titolare a Bremer. E sono i due giocatori su cui ha tagliato corto immediatamente. Molto curioso, sarei veramente ancora una volta curioso di capirne il motivo, non so se l'avete notato anche voi. McKennie, l'importanza centrocampo ed utilità e Tiago Motta dice sono andato a vedere l'azione del terzo gol, quello ti dirà tutto quello che è il ragazzo, la sua utilità in squadra, cosa può dare ad un gruppo, l'azione vale più di un gol, una cosa simile e meravigliosa da vedere per un allenatore. Magari non facciamo attenzione in tanti a queste cose, ma io ne metto molta, sono molto contento di averlo in squadra, sta aiutando il gruppo, forse è meglio l'azione di McKennie che il gol stesso di Francisco. Chi è che non legge questa cosa di McKennie? Cioè, lui dice, in tanti non ci prestano attenzione, ma chi può non prestare attenzione a quell'intervento di Weston? A quella partita che ha fatto da terzino destro fuori ruolo contro il giocatore con più talento e qualità sull'esterno dell'Ipsia e fare quell'intervento in dieci uomini che davvero vale più di un gol. Non so chi possa non farci caso a quella partita meravigliosa di McKennie, meravigliosa, perché è davvero meravigliosa e McKennie oggi merita di giocare titolare in questo evento, se non c'è nient'altro da dire. Mi è piaciuto molto il finale quando dice è meglio la stena di McKennie che il gol stesso di Francisco, perché questo manda un messaggio fortissimo ai calciatori. Cioè, non è il gol che mi interessa e quanto voi siete dentro la partita. Cioè, con Seisau che fa un gol bellissimo, perché il gol di con Seisau è bellissimo, si sente dire sta roba qua, è ancora più spronato a dare di più in partita. questo è veramente una sorta di doping legalizzato dal punto di vista mentale e Tiago Motta lo sta utilizzando benissimo per quanto mi riguarda. Per questo vi dico, sono stranito di sentire una risposta così secca, io l'ho sentita veramente fredda su Cabal e su Danilo. da monitorare. Dopo la vittoria è importante mantenere alto l'entusiasmo o i piedi per terra con l'equilibrio? E come sta la sua testa? Gli dice, grazie, sto meglio, grazie per la preoccupazione. L'entusiasmo utilizzato bene va sempre bene. Lo utilizziamo per lavorare al campo e fare bene. Questo è il grande vantaggio di lavorare con l'entusiasmo. Aiuta, vogliamo mantenerlo ma dipende solo da noi. Abbiamo sempre avuto i piedi per terra, consapivoli delle nostre forze ma utilizzandole nel modo giusto. Utilizziamo l'entusiasmo per lavorare meglio e bene ogni tanto lavorando di più o di meno perché è giusto come due giorni consecutivi dopo l'Ipsia dove abbia lavorato di meno ma era giusto per la squadra. Utilizzare l'entusiasmo per fare un buon lavoro più entusiasmo c'è e meglio è. Perfetto. Anche il fatto che abbia lavorato di meno cioè questi hanno preso l'aereo di notte sono tornati il giorno dopo avranno fatto un po' di scarico un po' di lavoro blando il giorno dopo ancora magari una sorta di premio produzione per quello che hanno fatto vedere in Germania e poi hanno iniziato a preparare seriamente la partita col Cagliari è giusto così ma soprattutto quello che vi dicevo prima l'orgoglio la parola chiave è il doping positivo è esattamente questa roba qua utilizzare la parola doping di sto periodo forse non è però avete capito cosa intendo e la cosa bella è dire l'entusiasmo che noi vogliamo vivere ce l'abbiamo soltanto se noi continuiamo a darlo perché questa cosa dipende da noi ci piace questo stato d'animo sì sappiamo come farlo continuare dobbiamo dare tutto in campo e io sono molto contento in questo momento della Juve cioè essere qua a dire non vedo l'ora che giochiamo domani alle 12.30 contro il Cagliari e poi mi dispiace perché c'è la pausa nazionale è bello eh ragazzi è una bella sensazione quindi sì speriamo che possano continuare così Milik nuova operazione e Tiago Motta dice non ci ho parlato dopo l'intervento mi spiace per tutti i ragazzi infortunati o quelli che subiscono un intervento credo sia il momento peggiore per un calciatore così come è successo a Gleason quando ci sono assenze lunghe dobbiamo dare di più come squadra aspettandoli in gruppo anche qua non proprio un abbraccio no a Milik anzi il fatto che non si sia neanche sentito dopo l'intervento mi fa dire forse ci sono alcuni giocatori che Tiago Motta non ha proprio a genio super a genio e Milik era uno di quelli che sembrava fosse dentro la lista dei partenti chissà che non possa essere uno dei motivi vedremo più avanti Vlaovic dopo l'espulsione di Gregorio urlava alla squadra la vinciamo la vinciamo è un leader potrebbe meritare la fascia e Tiago Motta dice sempre detto che è un leader positivo della squadra e lo sta dimostrando un attaccante deve pensare alla squadra e non i gol e lo sta facendo sono contentissimo del suo lavoro dal primo giorno di ritiro lavorando e dando l'esempio non sono le parole a dare l'esempio tutti i giorni ma il lavoro e l'impegno suo e nei confronti dei compagni vogliamo vedere sempre i giocatori così è un esempio importante per la squadra io sono sempre dell'idea che per un attaccante invece i gol contino tanto poi non significa che non debba contare la porta alla squadra l'altro giorno vi parlavo di un Vlaovic che secondo me non è adattissimo dal punto di vista del movimento della manovra nel costruire la manovra nell'andare a banalmente collegarsi ai compagni o fare ad raccordo tra i reparti in quello che è l'attaccante inteso a Tiago Motta ma nella fase di non possesso palla invece Vlaovic è perfetto veramente perfetto quindi io non credo che Vlaovic sarà mai il giocatore che richiede Tiago Motta quando abbiamo il pallone però può migliorare può scherzarsi indubbiamente però per me i gol invece per l'attaccante rimarranno sempre utilissimi si aspettava di essere a questo livello di consapevolezza a questo punto della stagione e Tiago Motta ci ha dovuto un po' pensare perché in realtà è una domanda molto interessante molto intelligente abbiamo visto che stiamo iniziando a fare delle domande sempre più distanti da quelle banali scontate poi ce ne sono ancora le abbiamo commentate anche prima quella su Conte quella sugli avversari però ci sono delle domande molto belle questa secondo me è molto bella e Tiago Motta dice alla fine abbiamo vinto una partita bellissima e abbiamo passato una grande serata ma due settimane prima non era così il calcio è fatto così bisogna accettare andare avanti lavorare migliorare con continuità oggi abbiamo fatto un ottimo allenamento domani vogliamo fare una grande partita con l'atteggiamento giusto tutto il resto non me lo metto in testa il presente è l'allenamento per la partita di domani giusto che non voglia correre andare alla fine ragioniamo su quello che c'è può essere un'eresia Locatelli centrale difensivo al posto di Bremer aprire bene le orecchie Tiago Motta dice perché no sarà l'allenatore più felice del mondo a contare su un altro giocatore in un ruolo diverso magari anche lo stesso Savona perché no poi sono cose che devo vedere in allenamento e se vedo che funziona le vedremo anche in partita perché no è un grande giocatore intelligente sa cosa deve fare in campo perché no spero di sì ha fatto veramente un teatrino quasi si è messo proprio come protagonista sul palco del teatro è ripetuto per tre volte perché no quattro volte perché no per poi dire spero di sì attenzione che sta scucinando non giunto di Mattiago Motta interessante per me non lo può fare però se Tiago Motta dice perché no spero di sì io alzo le mani e con molta curiosità mi dico vediamo vediamo con Seisao è andato oltre le sue aspettative caratterialmente cosa l'ha colpita del ragazzo sta lavorando bene sono contento in partita sì ma soprattutto nel quotidiano lavora benissimo è l'esempio giusto ha un atteggiamento fantastico anche quando si è fatto male si vedeva in faccia che era dispiaciuto ma voleva tornare il prima possibile contagia gli altri con la sua voglia di stare in campo con allegria e responsabilità ho solo elogi per lui ma non solo per il gol aiuta i compagni dimostrando come si deve affrontare una giornata di lavoro giocatori così sono un privilegio per un allenatore ho un grande privilegio cioè quello di avere Francesco con Seisao una storia d'amore migliore di Twilight comunque è bellissima frase l'ultima è un grande privilegio ed è un privilegio avere Francesco con Seisao proprio vai a dare al ragazzo una carica emotiva fortissima però è proprio quello che vi dicevo cioè guardate quante parole musica quanto Tiago Motta nei confronti dei giocatori che stiamo vedendo con più continuità sta continuando a parlare bene banalmente ci dice che anche Savona per lui potrebbe fare il centrale difensivo e ogni tanto anche l'altra sera quando Cambiaso stringevo si allargava Savona andava a fare il terzo nella difesa 3 in fase di impostazione cosa che non pensavo perché per me oggi un limite di Savona è proprio quello impostare invece è molto bravo sulla difesa è molto bravo quando deve andare a spingere è anche bravo a mettere di prima dei cross però deve lavorare proprio lì deve migliorare proprio lì Tiago Motta invece ti dice senti sai cosa per me può fare anche il centrale lo va a tirar fuori lui cioè vedete sui calciatori sui quali sta comunque dando continuità perché ha fiducia in loro quanto bene ne parla questa di Consensao è una dedica da libro cuore io nemmeno nelle poesie di Dante a Beatrice leggevo delle cose così meravigliose con così tanto affetto e a Cabal e Danilo si deve fare di più Milik non l'ho sentito Cabal oggi è giusto che non giochi siccome ci sono dei giocatori che oggi Tiago Motta proprio non riesce a vedere non ce la fa perché in allenamento non danno queste risposte cioè Vlaovic Consensao vedete invece cosa dice per Bremer ci mancava solo che dicesse ti do un mio crociato al granchi era dispiaciuto bello però leggere questo affetto nei confronti dei suoi calciatori poi c'è una domanda interessante a cui Tiago Motta risponde perfettamente per me perché adesso arriviamo dice solo sfortuna gli infortuni o anche i calendari dato che si gioca troppo e Tiago Motta dice non lo so è la risposta più onesta che si può dare sono d'accordo che si gioca tanto ma questo lo sapevano dall'inizio sfortuno o calendario non lo so può essere anche tutti e due e secondo me è tutti e due è una percettuale di colpa per entrambe le letture so dire che è un peccato quando succede qualcosa come è successo a Bremer ci sono passato anch'io all'inizio non è facile ma lo deve accettare il prima possibile concentrarsi sul fare l'intervento e il recupero e saranno tanti giorni senza gruppo serve un carattere forte un'ambizione sana di voler tornare bene e sono convinto che lo farà questo tempo senza di lui è nostro dovere a dare qualcosa in più per noi e per lui nel quotidiano e nel privato e in campo per non sentire la sua mancanza serve essere forti sì e serve essere motivati adesso è ovvio che non può centrare niente sono situazioni imparagonabili però io non mi sono sentito più né motivato né con l'ambizione di tornare a giocare a calcio mi sono rotto sono scarso sono vecchio sono sovrappeso penso a fare questo intervento e poi basta mi sono già divertito abbastanza è ovvio che Bremer non può fare questo ragionamento può fare Luca Toselli che si beve una birra dopo ogni allenamento Bremer è un professionista è un giocatore molto forte deve avere l'ambizione avrà uno spogliatoio avrà una struttura avrà un allenatore che continueranno ad aspettarlo continueranno a pomparlo in positivo lui è un giocatore che ha una mentalità incredibile e farà di tutto per tornare però è vero quello che dice Tiago Motta è vero bisogna essere forti bisogna accettarlo e bisogna lottare perché poi ti ritrovi anche a un certo punto da solo all'interno di un gioco di squadra invece ti ritrovi senza il gruppo e non è facile secondo me Maglason ce la farà e sono convinto che tornerà da noi e lo aspettiamo ai suoi livelli per poi superare nuovamente i suoi limiti perché ha ancora tanti tanti margini di crescita signori questa è stata la conferenza San Pediago Motta anche oggi siamo andati vicino ai 25 minuti ma ve lo avevo detto all'inizio di questo video c'erano tanti passaggi interessanti e sono contento di averli sviscerati insieme a voi io non ho ancora pranzato quindi alle 14.01 vi auguro un buon pomeriggio aspetto i vostri commenti qui sotto nella sezione adeguata lasciate un mi piace al video e noi ci vediamo domani in live reaction e poi qua per tutti i contenuti post partita un abbraccio forza Juve un abbraccio